Volley al termine di una finale praticamente infinita, Civitanova conquista lo scudetto. I marchigiani si impongono al tie-break a casa dei campioni d'Italia di Perugia, grande protagonista della sfida, il cubano Simon. Sentiamo Maurizio Colantoni. A suon di Mori ha vinto il suo primo scudetto in Italia, il quinto della Lube Civitanova, nella stagione più appassionante di Superliga in casa di Perugia. Robert Landy Simon, gigante buono, centrale immenso cubano, ha realizzato il suo sogno in una bella storia che può ancora continuare a Berlino nella finale di Champions League. Questa Lube è una famiglia, siamo diventati famiglia piano piano, ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso dei bei giorni insieme. La Lube è qui e l'anno prossimo sarà sicuramente difficile, ancora abbiamo una partita da giocare, ma dobbiamo pensare che siamo una famiglia e che in poco tempo abbiamo costruito qualcosa molto bello. Cosa vuol dire vincere uno scudetto? Io non avevo neanche idea cosa era vincere uno scudetto qua, ma è qualcosa di fantastico, puoi descriverlo così, puoi solo pensare che hai lavorato tanto per una cosa e sei riuscito alla fine della stagione ad arrivare a questo oggettivo, che era vincere uno scudetto. Adesso godiamoci questo momento perché ancora non ho idea di quello che ho vinto, ancora non mi sembra vero che l'ho vinto. Adesso ci pensarò, arrivarò a casa e gli dirò a mia figlia che ho vinto un scudetto nell'Italia.